85 vede un ritorno clamoroso in casa interista, è quello di Luisito Suarez al quale il presidente fra i soli, affidala, fanghetti lungo per Boninsegna, spalla la porta ancora Bonimba sul pallone, poi il capitano Mazzola, Mazzola la finta, si accentra in mezzo la ribattuta, fuori il pallone per Bertini, sinistro violentissimo, pallone sotto l'incrocio dei pali, gol fantastico di Mario Bertini